A 48 ore dall'inizio della fase 2 della raccolta differenziata porta a porta esplode la protesta UGL, USB e FIEDEL sul piede di guerra per la gestione del personale. Tanta gente ieri pomeriggio all'inaugurazione del nuovo parco della Resistenza dopo anni di degrado, l'aria verde torna finalmente a disposizione della città. Importanti risultanze dal convegno sull'autoproduzione svoltosi nel quadro delle manifestazioni per il 122esimo anniversario della fondazione della Compagnia Portuale. Appuntamento settimanale con il sonnetto di Pasquino che, messi da parte delle elezioni, dedica i suoi versi ad un vivace di batti e becco tra gli amici sul tema dell'immigrazione. Una partita che vale una stagione domani per il Civitavecchia che alle 11 ospita il Montalto nello spareggio per la permanenza nel campionato di eccellenza. A 48 ore dall'inizio della raccolta differenziata porta a porta nella cosiddetta zona 2 di Civitavecchia esplode la protesta dei sindacati UGL, USB e FIEDEL. Nel corso di una conferenza stampa le tre organizzazioni sindacali, dopo un'assemblea del personale svoltasi questa mattina, hanno denunciato una serie di inadempienze da parte del comune e di CSP. Per i dettagli vediamo. Si parte con l'estensione della raccolta differenziata. Questa mattina c'è stata l'assemblea dei lavoratori. Che cosa è emerso? È emerso che i lavoratori non accettano le proposte fatte dalla CSP nella riunione ultima di ieri pomeriggio in base a delle cose gravi di difformità dal direttivo europeo 66-2003 sugli orari di lavoro, sui turni, sul contratto nazionale di lavoro articolo 1,1 e esame congiunto e tutta una serie di questioni che il lavoratore non ha accettato e che quindi di conseguenza abbiamo mandato delle diffide alla società a non far partire lunedì la differenziata in modo da rivederci e riformulare tutto l'accordo sugli orari, sui turni, sulle indennità e buoni pasto e tutto l'orario di lavoro compresa la sicurezza che è in una situazione veramente vergognosa. Di sicurezza si era parlato anche già la volta scorsa, proprio all'inizio della raccolta differenziata per il primo quartiere. I tempi comunque sono piuttosto stretti. Cosa vi aspettate? Ma infatti questa amministrazione 5 Stelle sta facendo questa corsa contro il tempo che sta portando a uno sfacero di tutti, sia che va a danneggiare i lavoratori in primis e poi anche i cittadini. Ancora non abbiamo consegnato tutti i kit della raccolta differenziata. Il lunedì il sindaco vuole partire a tutti i costi perché ormai ha fatto i volantini e ha dato questa. Questa qui però si ritorce contro sia gli operai che non stanno in sicurezza perché dobbiamo fare delle cose, devono lavorare che in certi orari e turnazioni non sono contemplate dal contratto nazionale proprio nostro, FISE. E questa è una cosa gravissima. e inoltre tutto sta mettendo anche in croci i cittadini dall'altra parte perché c'è chi lunedì dovrebbe partire tutti ma invece non parte tutta. La cittadinanza neanche lo sa perché ci saranno soltanto 4-5 zone che partiranno invece delle 12 che erano previste, non so di preciso, non mi ricordo quante. E comunque questa corsa contro il tempo che Costolino a tutti i costi deve partire sta danneggiando gli operai e la città. E tanta gente ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione del Parco della Resistenza. A simbolico taglio del nastro hanno partecipato l'amministrazione comunale pressoché al completo con in testa il sindaco Cozzolino e ovviamente tanti bambini, ovvero coloro che saranno i primi fruitori dell'opera bellissima realizzata dall'impresa Sacchetti con il finanziamento di Enel grazie ai fondi per le compensazioni previste dalla via per la centrale di Torre Valdalica Nord. Vediamo. Sindaco Cozzolino, finalmente ci siamo, riapre il Parco Antonelli, tanta gente a visitare il Parco sintomo che questo è uno spazio verde che la città aspettava. Beh, ma che fosse un momento atteso da parecchi è indubbio, no? Comunque il parco era stato chiuso tanto tempo, i lavori si sono protrati più del previsto anche per la questione degli inesistenti usi civici e quindi ci è voluto un po' più del previsto. È venuto un bel lavoro, ovviamente mi hanno fatto notare alcune questioni, adesso vediamo di mettere mano però sono contento, vedo la gente contenta insomma di rivivere un'area come questa, mi fa piacere. Sindaco, questo è un primo passo, un primo parco, meglio, appunto, ristrutturato, ce ne saranno altri, altri tre? Ce ne saranno altri tre, i lavori al Parco del Palazzo d'Acciaio che dovrebbe essere intitolato a Don Egidio Smacchia e probabilmente sono ultimati, però voglio andare a vedere perché gli appunti che mi hanno fatto qua non siano anche lì. Lo Iuris Picarelli è in atto il cosiddetto debombing, che essendo stata Citecchia una città bombardata è nelle ditte incaricate, fanno prima di tutto sta cosa, ricerca degli ordigni inesplosi e poi avviano effettivamente i lavori. E poi c'è il Saraudi, stiamo chiudendo la conferenza dei servizi in questi giorni per cercare di ottenere il parere da parte del CONI per l'omologazione per le gare internazionali sullo skatepark che sembrava una cosa semplice, ma semplice non è. Quindi ce ne saranno altre tre, saranno delle bellissime aree a servizio della cittadinanza. Un'ultima battuta, il parco è nuovissimo, bellissimo in questo momento con tantissime persone che si stanno godendo appunto questo nuovo spazio verde. La speranza è che rimanga, diciamo, non come è oggi, ma insomma rimanga a un livello accettabile. Ma io spero migliori, perché comunque la custodia adesso c'è ed è prevista all'apertura del parco dalle 8 alle 20. Ci sono i sistemi di videosorveglianza remotizzati alla sala di controllo del comune, quindi il parco è sotto controllo. A breve arriverà il gestore che è già stato individuato dalla commissione, che è stata velocissima e che ringrazio e quindi poi il parco vivrà anche in un'altra maniera, come punto d'aggregazione di carattere sociale di questa zona della città, che è quello che ci interessava. Tant'è vero che sul bando, il corrispettivo al comune, il canone di concessione non era oggetto di rialzo. Questo proprio per far arrivare delle realtà che non fossero economicamente gigantesche e che quindi potessero puntare più alla valorizzazione sociale del parco. Quindi secondo me il parco migliorerà anche. Il sindaco Cozzolino oggi si ricorda delle sue radici ambientaliste, parla di rinnovabili, ma dimentica di non aver fatto nulla per 5 anni, quando è stato al governo della città, cancellando 300 milioni di euro di investimenti sulle rinnovabili, che oggi avrebbero consentito di avere una strada già tracciata. A parlare il capogruppo della svolta, Massimiliano Grasso, per il quale Enel deve chiarire a Civitavecchia qual è il complesso dei progetti su quest'area, aggiungendo che gli investimenti sulle rinnovabili devono essere fatti qui prima che altrove. Grasso aggiunge che nel frattempo tutti i tetti e le coperture disponibili in zona industriale, nell'area portuale, sugli edifici pubblici della città, dovranno essere utilizzati, coinvolgendo anche come superficie per il fotovoltaico, che si dovranno definire da subito altre iniziative per ampliare le possibilità di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il capogruppo della svolta conclude il suo intervento, giudicando la riconversione a gas di Torre Nord improbabile e totalmente insoddisfacente per Civitavecchia, sia dal punto di vista ambientale che da quello occupazionale. La raccolta differenziata nella zona centrale della città sta funzionando in maniera più che buona, superiore alle aspettative. La percentuale si è subito attestata su percentuali conformi al 65% previsto dalla legge e la qualità dei materiali raccolti è eccellente. Lo sostiene l'assessore all'ambiente Alessandro Manoedda, per il quale questi dati e il contatto con le migliaia di persone che finora hanno aderito con grande impegno e responsabilità alla raccolta porta a porta sono evidentemente indigesti per Massimiliano Grasso ed Ernesto Tedesco, che a suo dire si sono esibiti in una triste visita pastorale al centro di distribuzione dei kit per la differenziata, nell'inutile tentativo di disturmare i lavoratori e diffondere negatività sui cittadini che nel resto della città da lunedì potranno usufruire del nuovo servizio di raccolta differenziata. Quasi due ore di serato dibattito su uno degli argomenti cardine della campagna elettorale per la scelta del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale. Il porto incontra la città, promossa da Port Mobility e svoltasi nella sala conferenze dell'autorità portuale. Purtroppo l'assenza di tre dei sei candidati a sindaco, Germano Di Francesco, Dario Mele e Vittorio Petrelli, per impegni precedentemente assunti, ha limitato il dibattito. Gli altri tre candidati a sindaco, Daniela Lucernoni, Carlo Tarantino ed Ernesto Tedesco, hanno comunque svolto a pieno il loro ruolo di aspiranti alla massima carica cittadina. Presentati dal patron di Port Mobility, l'avvocato Edgardo Azzopardi, hanno fornito al pubblico presente la loro ricetta per fare in modo che il porto, l'industria maggiormente importante di Civitavecchia, possa finalmente dare le risposte attese sul piano complessivo dello sviluppo e dell'occupazione cittadina. Particolarmente importante, come sottolineato nel corso degli interventi, si sarà sviluppare finalmente quel rapporto diretto e stretto, anche di carattere economico, tra la città e l'autorità portuale. Su questo Lucernoni ha parlato di un accordo con Molo Vespucci, che dovrebbe portare nelle casse di Palazzo del Pincio 20 milioni di euro in 10 anni. Pollice verso da parte di Tarantino e Tedesco all'autolette di Fiumaretta, che a loro giudizio sancerebbe la morte del commercio locale, allontanando i crucerissi dal centro della città. Dal sindaco falso ambientalismo a tutto gas, lo afferma il coordinatore locale di Forza Italia Roberto Dottavio, in merito ai dubbi espressi dal primo cittadino sulla conversione a TVN a gas, annunciata dal colosso energetico. Oggi il sindaco degli ultimi 4 anni e 11 mesi si accorge dei livelli occupazionali, si ricorda che esistono dipendenti delle centrali e quelli dell'indotto. Infine si lamenta persino dell'interlocuzione con Enel, con la quale però aveva detto che non avrebbe mai parlato, salvo fare il contrario in corso d'opera. Secondo Dottavio il punto è proprio che Cozzolino, pur continuando a sventolare il suo falso ambientalismo con Enel, ci ha parlato, non lasciamo scegliere il futuro a chi dice che è bravo, perché si dà da fare dall'Enel i bus a gas, e poi dice che l'Enel non può abbandonare il carbone perché il gas inquina. La questione degli usi civici e cività vecchia deve essere risolta alla radice, è ciò che può avvenire esclusivamente con un'iniziativa a livello legislativo. Lo ferma il candidato sindaco del centro-destra Ernesto Tedesco, che in questi giorni ha lavorato ad un dossier sulla complessa questione che riguarda migliaia di immobili privati sul territorio comunale. Purtroppo il dibattito in questi mesi è stato caratterizzato da una contrapposizione sterile che non ha portato altro che confusione. L'unico passo verso una vera soluzione possibile lo ha compiuto però il parlamentare del territorio, Alessandro Battirocchio, avanzando alla Camera una proposta di legge che metterebbe davvero la parola fine sulla questione. Secondo Tedesco non è infatti a livello regionale che si può riparare agli errori fatti ed è per questo motivo che ha chiesto un incontro urgente al Ministero delle politiche agricole competente per materia dedicato esclusivamente alla situazione di Civitavecchia. E c'è particolare attesa per l'esito del convegno sull'autoproduzione dei porti inserito nel contesto delle manifestazioni per il 122esimo anniversario della fondazione della Compagnia Portuale e le attese non sono andate deluse. Importanti indicazioni sono infatti arrivate sul tema dell'autoproduzione, una questione che sta scuotendo il mondo del lavoro portuale e che preoccupa non poco i lavoratori. Il servizio. L'Europa dei porti, l'autoproduzione nella sfida tra il lavoro portuale e l'egemonia dei player del trasporto. Era questo il tema del convegno al centro delle manifestazioni per il 122esimo anniversario della fondazione della Compagnia Portuale e che si è svolto ieri pomeriggio alla Sala Ivano Poggi. Un convegno atteso alla luce della straordinaria attualità dell'argomento visto che sull'autoproduzione, ovvero sulla possibilità degli armatori di non utilizzare più i lavoratori portuali per le operazioni all'interno delle navi traghetto è in atto un autentico braccio di ferro in tutti gli scali marittimi con tanto di ricorsi al TAR. Ricorsi che al momento vedono soccombere i portuali rispetto agli armatori e particolarmente atteso al riguardo era l'intervento del presidente dell'autorità portuale perché proprio gli enti portuali sono chiamati in prima persona a dare le direttive sulla questione. Il presidente Di Maio nel suo intervento ha fatto riferimento alla sentenza del TAR di Sicilia che ha definito il rizzaggio, il derizzaggio nei traghetti servizi portuali che possono quindi essere effettuati dal personale di bordo e non operazioni portuali come invece vengono definiti dal regolamento vigente a Civitavecchia. E la distinzione è fondamentale visto che le operazioni portuali non possono essere effettuate dai marittimi ma da personale specializzato come i portuali. Di Maio ha sottolineato che proprio nella specializzazione si gioca il futuro dei lavoratori portuali a fronte anche del grande processo di automazione in atto negli scali marittimi di tutto il mondo. Per il massimo esponente di Molo Vespucci riveste quindi una grande importanza il modello organizzativo che deve essere il più possibile alineato all'evoluzione delle attività portuali. E in tal senso le nuove disposizioni contenute nel cosiddetto correttivo porti possono dare un aiuto perché danno proprio ai presidenti delle autoriti la responsabilità di redigere il piano organico dei lavoratori portuali e il piano operativo di intervento dei lavoratori portuali. A riguardo Di Maio ha giudicato fondamentale un modello organizzativo di qualificazione professionale così come l'integrazione dei lavoratori portuali con la logistica che si sta evolvendo velocemente. Per il presidente dell'autority la concorrenza è sui temi e i lavoratori portuali devono far parte di un ciclo logistico che si sta evolvendo con grande rapidità. In ultimo Di Maio ha ulteriormente rassicurato i lavoratori portuali sottolineando che a Civitavecchia non è stata seguita l'impostazione data invece a Palermo. Siamo al servizio di tutti, ha concluso, e anche attraverso l'organismo di partenariato cercheremo di comprendere le diverse esigenze perché tutti possano lavorare nel migliore dei modi ed in armonia. Nel corso del convegno che ha visto la partecipazione di rappresentanti di altre compagnie portuali italiane e della giunta regionale di imprese portuali locali è stato proiettato sul video anche un saluto di Giordi Aragunde, segretario dell'IDC, il sindacato europeo dei lavoratori portuali. Aragunde ha sottolineato come l'Unione Europea abbia cambiato strategia con attacchi nazione per nazione per dividere come sta succedendo in Italia. Il massimo esponente sindacale europeo dei Camalli ha fatto un appello all'unità perché a suo giudizio proprio in quest'anno si deciderà il futuro dei lavoratori nei porti. Preannunciato per novembre l'assemblea dell'organismo da lui presieduto. A margine della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a due reggimenti dell'esercito di stanza Civitavecchia, il sindaco Antonio Cozzolino ha chiesto al rappresentante del Cesiva, il capo di Stato Maggiore Luca Polloni, di partecipare ad un incontro ristretto con il ministro della difesa, Elisabetta Trenta. Erano inoltre presenti l'assessore Enzo Dantoidi, il responsabile della protezione civile e locale Valentino Arrillo. Si è affrontato il tema del potenziale contributo che il centro potrebbe fornire alla città e altre organizzazioni nazionali in termini di indotto socio-economico, in visito di una futura apertura internazionale e di utilizzo dei sistemi di simulazione per gli scopi attinenti alla pianificazione condotta di attività di protezione civile e di interesse locale e nazionale. Si tratta di un'opportunità molto importante per il nostro territorio, afferma Cozzolino, che può portare sviluppo, occupazione e lustro alla nostra città con attività di avanguardia per il Paese e per l'Europa. Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di disabilità e morte nelle persone con diabete di tipo 2. Rispetto a una persona sana che ha il diabete a rischio di morte, doppio quadruplo di infarto o ictus, ma ben uno su quattro non si considera a rischio. L'ASL Roma 4 ha dato il suo patrocinio alla campagna sulla prevenzione svolta dalle associazioni che operano sul territorio. La campagna, realizzata con il patrocinio della Società Italiana Diabetologia e delle associazioni medici diabetologici, prevede un'unità mobile che sta facendo tappa in 50 città, dove è possibile confrontarsi con gli specialisti e ricevere una valutazione diagnostica. La città sarà presente lunedì prossimo al Parco Yuri Spigarelli. Importante esperienza in Germania per i pianisti Civitavechiesi Elisa Viscarelli e Tiziano Leonardi, che hanno tenuto due distinti concerti per pianoforte a quattro mani. Sentiamo come è andata direttamente dal racconto dei due concertisti Civitavechiesi. Elisa Viscarelli e Tiziano Leonardi, allora riduce da un successo per due concerti che si sono svolte in Germania nei giorni scorsi. E allora, intanto, come mai questa iniziativa di tenere questi concerti in Germania? Allora, in quanto figlia di un italiano e una tedesca, finiti gli studi in conservatorio, decisi di trasferirmi in Germania per due motivi. Il primo è stato sicuramente quello di vivere la cultura tedesca, di conoscerla meglio, in quanto parte di me, per scoprire quest'altra parte di me. E secondo motivo, soprattutto, per immergermi dal punto di vista lavorativo, per annusare un po' la situazione, in quanto la Germania è il paese più fiorente sicuramente a livello musicale ed economico in Europa. E ho avuto anche l'occasione di creare delle situazioni a livello lavorativo, soprattutto dal punto di vista didattico, ma anche a livello concertistico. Ebbene, e allora questo rapporto, l'idea di realizzare un concerto con Tiziano Leonardi, anzi, un duplice concerto a quattro mani con Tiziano Leonardi, come mai? Sono molto legata all'Unione Musicale Civitavechiese, dove ho incontrato Tiziano, che è una figura sicuramente fondamentale della mia crescita, soprattutto a livello musicale, in quanto quando avevo otto anni, che feci il mio primo saggio, vedi questo bambino suonare in maniera così straordinaria, e questo mi portò a diventare la pianista che sono, mi diede la motivazione per diventare la pianista che sono. E allora, Tiziano Leonardi, è un'esperienza in comune di crescita musicale, che poi ha portato a realizzare questo concerto, ma non è il solo. Colgo l'occasione per avallare tutto quello che ha detto Elisa, anche perché provengo anch'io dalla scuola, ho incontrato Elisa, ovviamente in un'altra sezione, era quella un pochino più grande, era quella che magari era un po' più avanti con gli studi, e abbiamo condiviso la stessa insegnante per moltissimo tempo, Cristiana Barbaranelli. Vorrei parlarne in maniera, a livello di effetti che ha avuto su di me. Faccio molte altre cose, sono un pianista con una visione molto periferica, e ogni tanto ritornare a studiare in maniera più precisa, più esagerica appunto la musica classica, perché di quello si tratta, è una cosa che è da fare, è una cosa che eticamente va fatta. Diciamo che questa è stata l'alone proprio di serietà e anche di sacrificio, che ha premiato comunque due bellissimi concerti in una città così propensa dal punto di vista musicale. È andata bene? È andata benissimo, e Tiziano ci siamo divertiti tantissimo, veramente tanto, e abbiamo condiviso delle esperienze con persone straordinarie, e abbiamo avuto la fortuna di parlare, di discutere del prossimo progetto gemellaggio che faremo con la scuola, lo ripeteremo, più in grande, con alcuni docenti di alcune music school. Sono stati presenti anche dei giornalisti, hanno scritto belli articoli, siamo molto soddisfatti di questo. Lo ripeterete anche a Civitevecchio, o comunque in Italia. Speriamo di sì, sì, sì. Brillanti risultati per gli alunni di Clarinetto dell'Istituto Comprensivo di Via 16 Settembre, delle classi prima, seconda e terza, guidata dalla professoressa Maria Teresa Saraconi, che hanno ottenuto piazzamenti di riguardo ai concorsi musicali Visconti di Roma e Città di Tarquinia. Chiara Agostini, che ha partecipato nella categoria Solissi, ha ottenuto il primo premio in entrambe le competizioni. In duo con Chiara Petronilli, ha partecipato anche al concorso internazionale di Tarquinia, centrando il primo premio. Pool, anche per l'assemble di Clarinetto dell'Istituto Civita Vecchiese, assegnato dalla commissione del concorso di Tarquinia. Mercoledì 5 giugno alle 18.30, alla Cittadella della Musica, Sala Ennio Morricone, in occasione del saggio di fine anno scolastico della classe di Clarinetto, si terrà la premiazione degli alunni con la consegna dei diplomi di merito. Nel penultimo sabato precedente all'appuntamento elettorale del 26 maggio, Pasquino tiene fede all'impegno di non occuparsi di politica, da sempre il suo argomento preferito. Nel sonetto di oggi, l'anonimo poeta dialettale narra di una discussione tra tre amici che davanti a un bicchiere di prosecco non si trovano d'accordo su una questione di stretta attualità. Il titolo del sonetto è Il batti in becco. Sentiamo. Davanti a una bottiglia di prosecco di quello buono con le bollicine stavano a starnazzà come galline teneva a banco come sempre secco. Nel mezzo del vivace batti in becco fu Gigi che lanciano frecciatine disse che non poteva aprire il confine a chi non è ne manca un figo secco. Fu su quel punto che s'alzò corrato, lo guardo fisso senza sbattici io e con l'aria severa me ne vado e sollevò perfino il sopracciglio. Fu secco che dovevano trovare un guado pensò che a lui spettava da un consiglio e districò il mio figlio. Essendo forte proprio come un muro a Gigi assestò un percarci in cuore. Termina qui questa edizione del TRC Giornale ma restate con noi perché tra qualche istante avremo il quotidiano appuntamento con le notizie di Sporta in 24. Ben trovati da Sportime 24 che apriamo parlando di calcio. Arriva il momento decisivo della stagione per il Civitavecchia. I Nerazzurri ospitano domani alla Cavaccia alle ore 11 il Montalto nel play-out del campionato di eccellenza. In palio la permanenza in categoria. In casa Civitavecchiese saranno tutti a disposizione del tecnico Scorsini. Ascoltiamo il nostro servizio. La partita che va in una stagione intera. Il Civitavecchia si gioca la permanenza nel campionato di eccellenza nel play-out in programma domani ore 11 alla Cavaccia di Allumiere. Avversario sarà il Montalto formazione che le ultime settimane ha mostrato segnali di crescita ed è arrivata terz'ultima nella stagione irregolare ad un solo punto di distanza dai Nerazzurri. Quella di domani sarà una gara equilibrata e qui probabilmente decisivi saranno gli episodi. Tutti a disposizione per mister Marco Scorsini con i soli Petric e Moronti che non sono al top. Nelle due gare giocate in campionato una vittoria a testa visto che all'andata la Cavaccia in Montalto ha vinto 2-0 mentre al ritorno ad imporsi con un netto 3-0 è stato il Civitavecchia. Equilibrio totale anche nelle due gare di Coppa Italia. All'andata successo per 2-0 per il team allora allenato da Salivante. Al ritorno replica con lo stesso risultato dell'undici che era guidato da Rocchetti che ha poi vinto ai calci di vigore. Ma domani sarà una partita diversa rispetto a tutte le altre a cui abbiamo assistito in questa stagione. Un match in cui però il Civitavecchia parte leggermente avanti visto che nel gione di torno ha conquistato ben 23 punti perdendo praticamente solo con le prime della classifica. Altro aspetto da non sottovalutare è il fatto che si giocherà alla Cavascia. Mi aspetto che i nostri tifosi riempano lo stadio di Allumiere per far capire ai giocatori quanto apprezzano i sacrifici fatti in questa stagione spiega Scorsini. Ci deve carcare a disposizione due risultati su tre. Rimarrà in eccellenza ovviamente in caso di vittoria nei tempi regolamentari ma anche se il risultato di parità rimarrà anche dopo i tempi supplementari. Non ci saranno i calci di vigore. Scorsini ammonisce i suoi giocatori sull'atteggiamento da tenere in campo. Se pensiamo alla gara vinta per 3-0 con il Montalto convinti che domani sarà la stessa partita faremo un grosso errore ma sono sicuro che non sarà così. Ho molta fiducia nella mia squadra. Tra gli ex di giornata i più attesi domani sono i fratelli Vittorini Manuel e Cristian ma anche i Nuti che lo scorso anno hanno vinto la Coppa Italia di promozione proprio con il Montalto. Non resta allora che attendere il verdetto del campo che darà il suo giudizio domenica e decreterà chi tra Civitavecchio e Montalto rimarrà in eccellenza e chi invece retrocederà in promozione. Parliamo adesso di rugby una trasferta decisiva per le sorti del CRC in Serie B. Domani alle 15.30 i biancorossi saranno a Bologna per sfidare il Reno nel recupero della gara sospesa due settimane fa. obbligatorio fare 5 punti per la compagine di Giampiero Granatelli per agganciare il Romagna a quota 95 e quindi assicurarsi la possibilità di giocarsi lo spareggio per andare in Serie A. Gara fondamentale anche per gli emigliani che se dovessero perdere sarebbero retrocessi. Passiamo alla palla a nuoto match chiave in ottica playoff per la Cosa e Fiorentini in Serie B. Domani alle 17.30 la formazione guidata da Marcello del Duca sarà la piscina romana dell'Olgiata per la gara contro l'Anguillara terzo in classifica e sotto 4 punti rispetto alle giallo-blu. Tortore e compagne sono seconde gli basterà un pareggio per essere sicure della qualificazione al concentramento finale per andare in Serie A2. Chiudiamo con un'altra notizia di palla a nuoto dopo aver chiuso il secondo posto nel girone laziale della prima fase inizia l'avventura a livello nazionale per l'Under 20 dell'SNC. domenica e lunedì gli uomini guidati da Marco Pagliarini saranno impegnati nel concentramento dei quarti di finale a Santa Maria Capo a Betere. Avversari dei Rosso Celesti saranno Florenzia Crotone Duna Trapposilipo e Acqua Chiara. Accederanno alle semifinali le prime due classificate. La SNC sogna di ripetere quanto fatto due anni fa dove riuscì a conquistare il quarto posto finale. Bene, era questa l'ultima notizia di Sportime a 24 siamo ai saluti vi ricordo però che adesso ci saranno le informazioni delle meteo grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.